Sono 24 milioni i nuclei familiari o le famiglie per meglio dire che sono state censite e abbiamo soprattutto un incremento che è del 12,4% rispetto a dieci anni fa, quindi questo significa che la famiglia italiana continua a diminuire in dimensioni, ovvero sia il numero medio dei componenti per famiglia diminuisce in particolare dal 2,6 componenti nel 2001 a 2,4 componenti nel 2011.